Bella domanda, facilissima, il sottoscritto è ovvio. E questa è un'altra domanda facilissima, perché io sono realmente nuovo, perché io ho formato una squadra di ragazzi completamente nuovi, dove praticamente siamo tutti giovani, io forse sono il più anziano, ho 49 anni, e quindi non ho preso con me come hanno fatto altri candidati sindaci nelle liste personaggi che facevano parte della vecchia amministrazione, parliamo dall'estrema sinistra all'estrema destra, partendo per gli ex di Muriani, gli SPD, allora chi ha governato? Negli ultimi 5 anni ha governato Stellato, Di Muro, Mattucci e i socialisti, ora hanno fatto un accozzaio, io li chiamo l'Armata Branca Leone, quindi automaticamente non c'è niente da dire, che devo fare? Dobbiamo essere noi i propositivi per fare qualcosa per la città, alimentare, secco. Per me la priorità principale è la sicurezza dei cittadini, è un contributo verso il sociale, sociale, infatti la mia politica si introduce con una politica sociale, lo si può fare attraverso un servizio di videoserveglianza efficiente, rafforzare la presenza delle forze dell'ordine in tutto il territorio, avviare un tavolo di confronto con il comandante dei carabinieri e della pubblica sicurezza locale, insieme al comandante dei vigili urbani, per garantire un piano di attività di controllo su tutto il territorio. Per il sociale intendo di sensibilizzare i cittadini e destinare il 5 per mille, così come scritto nel mio programma delle trattenute IRPEF, e destinarle alle fasce deboli. Saranno quindi gli stessi cittadini di Santa Maria Capovetele a dare sostegno ai loro compaesani, con meno sprechi della macchina pubblica si potrà arrivare anche ad una social card, dare priorità di lavoro per le famiglie senza reddito. Questo è il punto principale per noi. Io ho in mente una proposta per i giovani molto semplice, l'ho anche detto pochi giorni fa ad un'altra intervista dove abbiamo partecipato tutti i candidati sindaci, dove c'erano gli scatto che volevano la sede per gli scatto. Io ho in mente un'arena di socializzazione, un centro di aggregazione sportiva, culturale e artigianale, dove i giovani potranno imparare e dedicarsi agli sport e ai mestieri sotto la guida di un buon datore di maestri volontari ed esperti. Quando riguarda il museo civico, la biblioteca comunale sono strutture troppo importanti per la nostra città in quanto sono rimaste chiusi al pubblico per tanti anni e ritengo che bisognerà intercettare fondi messi a disposizione sia dalla regione sia da altri enti per far sì che queste consentano la ristrutturazione, la messa in sicurezza e l'agibilità degli immobili che ospitano il museo e la biblioteca. Questo può essere il mio cavallo di battaglia, sto da mesi a denunciare questa problematica e sul mio profilo Facebook si può vedere benissimo alcuni esercizi commerciali che sono per strada, occupazione di suolo pubblico, presa di corrente che paghiamo noi cittadini, campi rom, strutture destinate a persone dove praticamente a chi sì e a chi no. Io voglio equità per tutti, le cose vanno date a seconda di una procedura. Sono stato l'unico a denunciare il malaffare e il clientelismo. A me non interessa perdere voti denunciando anche fascia d'evole, però le stesse cose devono essere date allo stesso modo a tutti. Non voglio le disuguaglianze, nessuna priorità del comune dovrà più essere occupata abusivamente e non ci dovranno essere favoritismi per uno piuttosto che l'altro. Allora, questa domanda meriterebbe un approfondimento molto più vasto di un minuto che mi date. Ve la leggo perché praticamente altrimenti in un minuto non ce la facciamo, infatti già siamo a 48 secondi. La società di trasformazione urbana, io se dovessi essere il futuro sindaco della città, la trasformazione urbana sarà una delle mie priorità, perché attraverso la trasformazione urbana, una città diventa attraente e la nostra città ha bisogno di tornare ad essere bella e attrattiva. Sono tante le opere che sono rimaste incompiute in città. Vanno in primis adeguate tutte le attuali strutture sportive, in particolare lo stadio Piccivillo, dove oggi non c'è più neanche la gradinata, un palazzetto dello sport al rione Sant'Agostino. Le strutture sportive del rione ACP e tutte le aree libere o dismesse dalle città saranno recuperate, verranno realizzati laddove è necessario spazi e strutture dedicate all'esibizione degli artisti emergenti. Particolare attenzione sarà riservata nell'affidamento di questi impianti a società sportive. Tutte le iniziative per la città saranno incoraggiate e non come finora ostacolate dall'amministrazione comunale, sempre con lo stesso metodo, equità. Nel mio programma elettorale al primo punto c'è proprio la sicurezza. Prima abbiamo parlato di sociale ed è il secondo punto. Quindi per quanto riguarda la sicurezza dei cittadini in che modo? Attraverso un sistema di videosorveglianza, principalmente installato sulle arterie che escono dalla città, tipo le vie che portano a Sant'Ammaro, le vie che portano verso Aversa, la strada che porta verso la zona nuova autostrada e casella autostradale e quant'altro. In più rafforzare le forze dell'ordine. Voglio prendere le persone, il superfluo del personale che abbiamo oggi nell'amministrazione comunale, come dipendenti comunali, per renderli efficienti anche in luoghi dove occorre maggior rafforzamento delle forze di sicurezza. Gli alziani sono un grande valore per la nostra comunità. Sono maestri di saggezza e di esperienza. Sono figure importantissime per la famiglia di tutti noi. Ma in città, oggi gli alziani hanno davvero delle strutture dove poter avere il loro spazio? Il mio pensiero è quello di creare un obiettivo, quello di creare una struttura ricreativa che sia lontana da quelli che possono essere ospizi o casi di cura. Una struttura dove loro possano incontrarsi e perché no? Rivedere vecchi amici di lunga data. Volontari che possono assistere gli anziani con amore e dedizione proponendo attività sportive per la loro età e assicurando loro lo svago e divertimento. Inoltre propongo la loro partecipazione attiva in diversi progetti sociali che vadano dagli orti sociali alla partecipazione diretta anche nell'ambito politico tramite un confronto con mentori della città. Occorre prendere da loro tutta l'esperienza e i consigli per poter portare l'amministrazione e una città migliore. Sono sceso in politica solo ed esclusivamente per il bene della nostra città. Non per fare, come dicono tutti, io amo la mia città. Io davvero amo il futuro generazionale e non sono un politico, non ho dietro politici. Io ci ho messo la faccia, è la prima volta che scendo in politica e ci credo davvero. Invito tutti i miei concittadini a dare una volta e per tutte lo spazio ai giovani e per far sì che si arriva a questo dobbiamo tutti quanti rimboccarci le mani e andare avanti per la nostra strada. Grazie a tutti.